Nel serale di Amici 2023 di certo non è passata inosservata lei, Marisol, che ha infuocato il palco di Amici con un'esibizione davvero pazzesca. La sua pole dance ha lasciato tutti di stucco, la ballerina della professoressa Celentano ha portato sul palco quello che doveva essere un guanto di sfida e ha mostrato tutta la sua bravura, la sua sensualità e la sua versatilità. Ciò che però in pochi sanno è che Marisol ha già partecipato a un altro programma televisivo. Fin da bambine infatti nutre una grande passione per il mondo della danza. Lo studio di questa arte è iniziata alla scuola dance 4 di Biella in Piemonte. Proprio con questa scuola Marisol ha ottenuto un importante traguardo, il titolo mondiale, ai pole art Italy 2019 nella categoria junior 11-14 anni. Dopo di ciò, come possiamo vedere da queste immagini, è apparsa in televisione il suo primo debutto in veste di concorrente a Italia's Coast Talent. In quell'occasione la ballerina si è esibita con una performance di pole dance, ma purtroppo non è andata a finire bene perché il suo percorso all'interno del programma non è andato avanti. Nonostante ciò però Marisol Castellanos non si è affatto arresa, infatti a distanza di tre anni è riuscita a entrare proprio ad Amici, dove ieri con questa esibizione pazzesca di pole dance ha stupito veramente tutti. E voi cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti, lasciami un like se ti va e se ancora non l'hai fatto iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!